Oggi finalmente presentiamo alla stampa la nostra scuola di formazione del volontario AIL. È stato un lavoro che è durato un anno, che ha visto oltre 20 psicologhe dell'AIL riunite in un tavolo tecnico per preparare un modello di scuola adeguato al tipo di paziente che è il paziente onchematologico. La novità sta anche in questo, il fatto che poteva essere semplice adeguarsi a modelli accademici già ben costituiti, invece il nostro sforzo è stato quello di mettere insieme le esperienze di tutte le sezioni che già facevano la formazione e trovare una sintesi, un modello comune.